3 novembre 2017. Oggi Aldo ore 17 circa si trova a Laveno esattamente in un posto dove sono già stato tre o quattro volte dove è iniziata la mia storia. Vi ricordate YouTube del 24 febbraio 2017, Casa della Bambola, a Laveno. Ecco questa è la casa che sono ritornato oggi nell'ambiente autunnale. Ma perché proprio oggi? Perché io l'ho conosciuto esattamente nove mesi fa questo luogo che mi ha dato un senso poetico e artistico. L'ho conosciuto oggi, compie esattamente nove mesi. È il luogo a me caro per aver esaltato la mia mente, la mia fantasia. E si può dire che in nove mesi nasce un bimbo. Sì, in nove mesi nasce un bimbo. Ora vi faccio vedere l'interno di questa casa della bambola. È nato tanti anni fa. Vi faccio vedere l'interno. È meravigliosa. Ecco, ecco l'interno. Accendo la luce. casa della bambola. Così piccola mi sono abbassato, non ho picchiato la testa. C'è un mio quadro piccolo, 30x40, intitolato La Luna. Osservatelo bene. La Luna. Ma perché quel cerchio rotondo? Qui c'è questo quadro molto significativo perché c'è la vita e la morte. È espresso in un senso pittorico. Infatti ho schiacciato, ho spremuto i tubetti pienamente su questa tela per esprimere il mio senso ortistico riversato su tela. Il mio io. Qui nasce la luna mandaluce e c'è un cerchio, come per dire significato della vita, che anche in una notte di stelle, di luna, c'è la vita. Guardate che bello. quadro ad olio, 30x40. Abbasso la testa, l'ho picchiato l'anno scorso, nel YouTube del 24 febbraio 2017. Aldo Maspero. Ricordate la storia dei bambini che venivano qui a giocare, ve la rammendo. Così, ecco, questo è il giardino. È il giardino. Fra un po' viene buio perché i giorni si sono accorciati. Vediamo se vede il lago. Sì, si intravede da lontano il lago Maggiore. Ora vi saluto da questo nuovo YouTube fatto oggi. In pochi minuti sono ritornato a rivivere un luogo dove mi ha fatto sognare che veniva la primavera, l'estate, poi ritorno l'autunno, l'inverno e così via. Il sole, la luna e nascere, l'importante è nascere e morire ogni giorno. Vi faccio vedere di nuovo il quadro. Molto materico, di aldo maspero, colori ad olio, significato pienamente vivo del nascere e morire. In questo piccolo quadro c'è espresso una vita. Invece di esprimere nella bambola, vi sono espresso la propria esistenza in un quadro intitolato la luna.